Com'è essere il padre di Valentino Rossi? Non sono tifoso di Marquez. Non sei tifoso di Marquez. Mi viene in mente quando io e Valentino, lui aveva dieci anni, nove forse. Adesso il più forte secondo me... Ciao ragazzi, sono Cid, benvenuti in questo secondo episodio della serie 48 ore con Graziano Rossi. Il primo episodio l'avete apprezzato tantissimo e di questo vi ringrazio ancora, mi fa davvero tanto piacere. Perché se l'ho fosse perso andate a vedervelo perché troverete la collezione privata degli scooter dei tempi di Valentino Rossi. Graziano Rossi che sgomma, drifta con un R8. L'M5 di Valentino, tutti i mezzi assurdi di Graziano Rossi. Un contenuto davvero incredibile e unico che ad oggi non si era ancora visto, quindi mi raccomando andate a vederlo. Oggi siamo qui per il secondo episodio dove andremo a scavare un po' a fondo nella vita di Graziano Rossi. Andremo a fargli delle domande e scopriremo un qualcosa in più su di lui. Ora non perdiamoci in altre chiacchiere e godiamoci il video. Siamo qua a casa di Graziano che mi ha appena offerto un piatto di pasta squisito, quindi a pancia piena. Volevo fare un attimo di chiacchiere con te. Abbiamo parlato tanto in questi due giorni, loro hanno visto alcune delle belle esperienze che mi hai fatto fare, però ci tenevo a far raccontare anche qualcosa di te perché tantissimi ti conoscono, perché sei il padre di Valentino Rossi, però tu sei stato anche un pilota del mondiale che ha fatto anche delle vittorie nel moto mondiale. E quindi mi sarebbe piaciuto sentire un po' se volevi raccontarci la tua storia da pilota, qualche aneddoto che magari riusciamo a comunicare. Per me sarebbe un piacere sentirtelo dire e condividerle con loro. Grazie, certo. Io ho corso a 18 anni due anni di motocross, perché quando ero piccolino i miei genitori non mi avrebbero permesso di fare la velocità. Poi a 20 anni ho cominciato a correre in pista, a fare la velocità, e sono andato subito molto forte con una Benelli 250, in un periodo in cui la maggior parte delle moto in pista erano delle Harley Davidson 250, tal fatto che l'Harley Davidson, scusami, era una moto da corsa vera, che costava allora 5 milioni, e la Benelli era una 250 bicilindrica stradale, che andava trasformata e preparata, e comunque costava 500 mila lire, insomma, per dirti la proporzione. Vinsi, feci secondo la prima gara e vinsi la seconda gara, quindi cominciai subito molto forte. Questo in che anno? 79, no che 79, 72. Qua si parla già di moto mondiale. Ho cominciato il motocross nel 72, nel 75 ho fatto il campionato juniors di velocità, e nel 76 sono passato a fare il campionato mondiale. Il tuo esordio è stato un esordio da privato? Da privato, sì sì. Siamo andati a Vallelunga con il meccanico e con una Meari di uno sponsor, nella quale abbiamo caricato dentro questa Benelli 250, e quando siamo arrivati ci hanno guardato tutti con un po' di compassione, diciamo, perché la Benelli era una moto naturalmente molto meno competitiva delle molte Harley che c'erano in pista. Quando siamo andati via, avevamo fatto secondi, dopo aver fatto, mi sembra, il miglior tempo, ci guardavano con un altro interesse, con un altro... Immaginano la soddisfazione. Il gusto, sì, la soddisfazione, il gusto, poi vivere a Pesaro dopo, da lì in avanti significò vivere in una delle città italiane più appassionate di motociclismo, più vicine al motociclismo, c'era la Benelli di Pesaro e tante altre cose, e poi cominciai con le moto Verla Suzuki 500 del Team Gallina, e tutta una serie. Sei stato notato? Io poi ho corso nel 79 con la Morbidelli 250, che era una casa costruttrice di Pesaro, e Morbidelli era un industriale delle macchine per la lavorazione del legno, ed era, secondo me, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi nella tecnica con la quale affrontare la preparazione di un motore da corsa. Lui fece delle moto che, mi ricordo, le 125, ci fu un periodo che fecero smettere di correre giapponesi, per dirti cose del genere. Con questa Morbidelli 250, nel 79, io vinsi tre gare del moto mondiale, e quello fu il mio momento migliore, poi ebbi delle sfortune, corsi con la 500 Morbidelli, con le 500 Suzuki del Team Gallina, feci forse quinto nel moto mondiale dell'80 con la 500 Suzuki, quinto che fa sbudellare da ridere, ma quinto in un moto mondiale non è una cosa da sottovalutare. Ma se non sbaglio, il tuo risultato migliore a moto mondiale è stato terzo, no? Terzo, io ho fatto terzo nel campionato del mondo della 250, con la Morbidelli, nel 79. Adesso ti faccio una domanda prima di andare a toccare un'altra tematica che ti volevo chiedere. Com'è stato vincere la prima gara del mondiale? Cioè, un sogno di tutti gli appassionati di moto, vincere il mondiale è l'apice. Cioè, tu te la ricordi ancora quella sensazione che hai avuto? Assolutamente sì, perché la magia più di così non c'è mai. Io non l'avevo mai provata nella vita, nemmeno le cose più importanti. Vincere la prima gara è la magia fatta sogno, la magia fatta realtà. Tu sei lì e a un certo punto non sai più nemmeno perché sei lì. non sai quasi, non ti ricordi più neanche cosa è successo fino a che non torni a casa e ti siedi a pensarci. Perché? Perché uno che è appassionato di moto lo è da ragazzino, fin da ragazzino, prima addirittura le biciclette forse. è una cosa che si ha dentro. È una cosa che si ha dentro ed è una cosa che quando succede che vinci una gara così importante ti fa diventare il cuore nella gola, anche l'anima nella gola. Poi penso che tanti sacrifici vengono anche un po' ripagati, no? Tu che sei partito da una situazione comunque dove hai fatto dei sacrifici molto inferiore arrivare a vincere una gara di mondiale penso che ti abbia dato anche un po' di rivalso, una sensazione di... Intendiamoci, intendiamoci. I sacrifici secondo me non sono così grandi. Voglio dire andare a correre a Vallelunga con una Meari invece che con un Ducato non è non è una cosa così difficile e tu lo fai con talmente motivazione che alla fine il sacrificio diventa un gusto quasi. Certo. E non c'è non c'è No, ho capito quello che intendi. Non c'è un'altra cosa dove il sacrificio diventa gusto come nello sport. Ho capito quello che intendi. Poi tu ti sei allontanato dalle corse se non sbaglio per degli infortuni giusto? Sì, sì. Questo penso sia stato uno dei momenti più bui no? Sì, sì, assolutamente. Ti va di raccontarlo? Però anche lì riuscire dopo dopo tre mesi che il dottor Costa ti ha salvato la vita a Dimola in un volo con la 750 a 260 chilometri l'ora e poi ritrovarsi piano piano a vivere normalmente come prima è un gusto meraviglioso. Certo. È un gusto meraviglioso anche quello. Mi sembra di capire comunque che una delle tue forze è che vedi sempre il lato positivo nelle cose. Comunque ti ho parlato di due problemi tu mi hai tirato fuori due cose positive. Io vedo vedo c'è un approccio alla vita molto positivo. Assolutamente sì. E questo sicuramente farà parte del tuo successo perché veramente hai detto due cose negative. Il mio successo è arrivato dopo però attenzione quello che io ho fatto per il mio successo non ha funzionato tanto nel senso che io poi non ho vinto dei campionati del mondo non ho vinto chissà che cosa il mio il mio successo è arrivato dopo quando è arrivato un bimbo che invece ha cominciato a vincere tutto quanto ce n'era tutto quello che c'era da vincere com'è essere il padre di Valentino Rossi? Beh te 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 lo puoi immaginare io sono ah non me lo posso immaginare ti dico la verità io sono sono sempre stato assolutamente molto sulle mie da sempre perché sapevo quanto fosse brutto terribile illudersi di essere bravi puoi magari avere la controprova che non è così quanto ti possa quanto ti possa scoraggiare però insomma quando quando io sono stato a a Donington dopo che Valentino aveva vinto tutto e mi sono anche tagliati i capelli lunghissimi che avevo non c'è non c'è una non c'è una terminologia per spiegare cosa si prova si sta bene così e basta si sta bene così sarebbe bello che fosse sempre così ecco ebbè già lui ha fatto tanto 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 quindi veramente le parole giuste penso davvero che non ci siano perché io mi sono sempre sempre tenuto mi sono sempre tenuto sulle mie infatti io ti ringrazio per avermi dato questo spazio veramente veramente un onore per me figurati perché comunque cioè mi hai trattato due giorni che mi hai fatto venire nei tuoi posti a mangiare a rivedere tu sei uno voi voi due siete due che contano e quelli che contano sono altri però io ti ringrazio veramente per me è un onore io stare un paio di decenni a seguire Valentino prima il periodo in cui un babbo un genitore conta molto certo conta molto il babbo nel caso di Valentino come avrebbe potuto contare anche un amico anche un manager nel caso di qualcun altro ma quando quando tu babbo hai fatto per lui delle cose che sono diventate importanti ti senti ti senti molto bene ti senti molto bene però non c'è non c'è bisogno di gasarsi mai perché perché poi nello sport può sempre succedere qualcosa di strano qualcosa di difficile e allora sarebbe una grandissima delusione quindi la gioia semplicemente la gioia dentro il cuore dentro l'anima questo ho visto che è una visione molto positiva e non avevi paura vedere tuo figlio avevi paura 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 ce l'hai sempre ce l'hai sempre paura ce l'hai sempre e invece le rivalità che noi abbiamo vissuto tanto a casa tu come le hai vissute peggio di noi come le abbiamo vissute noi lo sai perché un appassionato vero le hai vissute male parliamo di Max Biagi già dai tempi tu come le vivevi non mi fregava niente non ti fregava niente tu sapevi che lui era il migliore e lo tifavi sì basta fare che non ci facessi male sì ok e questo questo è importante secondo me però quella con Marquez magari un po' adesso l'hai sentita adesso non semplicemente non sono tifoso di Marquez non sei tifoso di Marquez no guarda che ti dico che noi ne abbiamo già parlato in privato e non voglio nemmeno dargli spazio in questo posto penso che a nessun tifoso possa mai andare giù un'ingiustizia del genere quindi ora c'è questo punto di domanda grosso è fuori di dubbio che lui sia uno che guida bene questo non l'ha mai messo in dubbio nessuno però quando uno ha un'educazione di un certo tipo quella è quella con cui poi si confronta con gli altri quella che si porta dietro è quella che si terrà per sempre tu sei stato un signore a dire queste parole perché anche io non ho detto niente io ho sempre nel privato altre parole per descrivere però qua siamo siamo civili vedremo cosa farà nel 2024 vedremo 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 io davvero non voglio chiudere l'intervista con questo discorso ti voglio chiedere il bagnaia magari che bagnaia è uno dei ragazzi di Valentino per te chi è il più forte adesso oppure anche Bezzecchi i ragazzi di Valentino ce ne sono diversi molto molto bravi adesso il più forte secondo me è bagnaia secondo te il più forte è bagnaia io te l'ho già spiegato prima mi sono un po' allontanato mi dispiace dirlo ma io sono una persona molto sincera infatti quei pochi che mi seguono mi seguono perché sono uno molto schietto e sincero io da bambino te l'ho già detto mia nonna mi aveva regalato la maglietta di vale gialla quella del tessuto da calcio che ci sudi anche litigavo con mia mamma perché me la voleva lavare io non volevo mai toglierla e quindi sono cresciuto con Guido Meda che urlava tutti in piedi sul divano ed ero veramente in piedi sul divano ho vissuto veramente tutta quell'emozione magica che ha fatto innamorare tutto il mondo a questo sport e nell'uscire lui dalla MotoGP io ti dico ci ho provato tante volte tanti grandi piloti pazzeschi però non c'è più non c'è più quell'emozione lì quindi io non sono più riuscito a guardarla anche se ci sono questi ragazzi che sono pazzeschi tanti mi dicono ma se sei davvero appassionato dovresti guardarla e io che posso fare se non mi dà più quell'emozione veramente un bocca al lupo ai ragazzi che io comunque tifo tifo e spero che restino lì dove sono ai posti davanti e tutti e tre che non vengono disturbati come abbiamo detto prima assolutamente e di aneddoti particolari ostia adesso se ne puoi dire qualcuno di stravagante ci puoi far divertire un po' questo adesso questo adesso è un po' di film mi viene in mente quando io e Valentino lui aveva dieci anni nove forse quindi con le mini moto si andava a correre alla pista di Cattolica dove lui si allenava spesso e lui fa il miglior tempo nelle prove e la partenza prima curva a destra lui va a posizionarsi sulle partenze e si mette a destra allora io vado vicino e dico guarda che viene meglio se parti a sinistra perché hai tutto lo spazio all'esterno della curva dove puoi superarmi guarda non ti preoccupare penso io non ti preoccuparti penso io nove anni aveva ed era in prima fila anzi non era in pole position e vabbè quelle quelle sono le cose che decide la vita insomma di avere trovare ad avere a che fare con uno così insomma ma io mi ricordo già ogni tanto io mi guardo i best moment di Vale perché mi danno delle vibrazioni interna io già quando vedevo i suoi video che spiegava delle mattate che faceva anche con l'ape o delle impennate che faceva con i rally sembrava che poi che parlava un amico perché non è che uno che parlava altezzoso sempre con i cappelli diversi e quindi mi sa quanti ne hai viste anche te di cotte e di crude veramente sì sì lui ha sempre avuto una passione vera quindi ma è quello che dico sempre io dico ma voi cioè come tutte le cose ci sono chi ti ama chi ti odia ovviamente tante volte ci sono delle critiche io dico ma come si può criticare una persona che ha avuto tutto e poi si ritrova comunque alla sua età con una figlia ancora tutte le settimane a dare del gas o dappertutto go kart ranch in macchine e adesso sta dimostrando cioè a chi gli può dire uno così cioè ha dimostrato tutto diventato una leggenda e ad oggi ancora sta dimostrando che veramente lui l'ha sempre fatto per passione cioè è questo che stiamo dicendo quindi è una roba e poi parliamo del papà adesso speriamo che il suo team abbia abbia successo ecco il suo team adesso è Bezzecchi e di Gian Antonio Bezzecchi secondo me può diventare anche secondo Valentino può diventare uno da podio di Gian Antonio è una grande sorpresa che sembrava che fosse lento invece si è dimostrato veloce improvvisamente quindi non si quindi non si capisce speriamo solamente che continui nella in questa in questa crescita no magari magari arriva a vincere però Bezzecchi è uno che può puntare molto in alto bene vai facciamo il tifo speriamo noi facciamo il tifo per il suo team e per lui comunque quello che stavo dicendo prima che poi non ti è voluto interrompere d'altronde stai dicendo che vale a questa età ancora da dal gas ma d'altronde è tuo figlio che a 70 anni portati un gran bene ma ci sono sempre era quello che mi passava davanti di traverso che era un R8 quindi la famiglia la famiglia è questa non ci sorprendiamo diciamo passare davanti di traverso con l'R8 è più ce l'ho su io questa cosa l'R8 è un bel po' più facile ma è la una a 70 anni io gli ho raccontato gli ho spiegato gli ho ho tentato di fargli credere che è importante per lui allenarsi con le automobili a Ranch no perché a me mi darebbe un gran gusto andare a Ranch con l'automobili ma l'avevo già capito però lui non vuole naturalmente allora gli ho detto guarda che bisogna che tu ti alleni adesso guidi una BMW una di quelle posteriori molto potenti quindi per tenerla di traverso bisogna che ti alleni al Ranch siamo andati siamo andati a fare due sfide te e lui io e lui allora la prima prima sfida è con due con due Ford Focus RS la bianca quella bianca io ne ho una bianca lui ne ho una bianca anche lui come la mia e l'ho fregato la seconda volta siamo andati con due macchine da rally la Subaru Blue quella che hai visto laggiù e la e la e la Mitsu e la Mitsu gialla lei è gialla sì e mi ha fregato lui accidenti quindi adesso siamo ad aspettare un'occasione ci vuole la terza per farla bella certo per farla bella a proposito di BMW potreste farla con due M3 tanto di BMW non te ne mancano non so neanche quante ne hai è vero la fatti con due M3 adesso glielo propongo però però la tiro per le lunghe perché fino a che te la racconto adesso ti ho raccontato che una volta ho vinto io una volta ho vinto lui la prossima volta non te lo potrò raccontare più chi adesso lui sta andando giù pesante con le macchine sta dimostrando tanto anche lì sì mi dispiace che lui ha solo il gusto di andare forte in qualsiasi condizione dovunque si trovi lui fa e sempre a lotta con il cronometro lui si confronta sempre solo col cronometro mai una volta un traverso bello fatto così per il gusto di farlo e li sa fare e sa andare il traverso è capace ma non non ce n'è e quindi lui esce frenare più tardi possibile c'è il cronometro in testa e dare gas prima possibile quindi al drift non sei riuscito a convertirlo ancora no ancora no ma non mi sono riuso magari quando si stufferà dal cronometro sì arriva il momento non si sa perché non si sa però per adesso arriva il momento perché poi a 75 anni non dovesse farcela più col cronometro magari trova lo stimolo il posto c'è le macchine ci sono esatto il manico c'è quindi aspettiamolo va bene io davvero ti ringrazio tantissimo per me è stato un onore ti stringo ancora la mano bravo noi abbiamo già qualcosa qualche progettino in ballo adesso non diciamo niente perché quando è concreto comunque non sarà l'ultima volta assolutamente che ci vedrete insieme assolutamente no sta lasciando una bella amicizia e un bel po' di gas ciao a tutti ragazzi ciao